Facile da usare il tampone Fai da te la nuova frontiera nella lotta al covid-19. In Veneto è iniziata la sperimentazione. 5.000 tamponi che saranno testati in gruppi di persone, pazienti in arrivo al pronto soccorso e dipendenti delle aziende sanitarie. Un progetto messo a punto nel laboratorio di microbiologia di Treviso diretto da Roberto Rigoli in collaborazione con gli altri 14 laboratori di microbiologia del Veneto. Ha la stessa attendibilità dei test antigenici, cioè ha un'attendibilità elevata se viene eseguito subito. Se si fanno passare delle ore perde di attendibilità. L'esecuzione è molto facile perché basta infilarlo, avete visto, nelle narici, fare 5 giri in una narice, 5 nell'altra e poi stemperarlo nella provetta e mettere 4 gocce nella provetta. Stiamo lavorando su due fronti. Il primo è quello del paziente, del cittadino. E l'altra cosa che ci poniamo come problema è proprio le attività commerciali perché vediamo che iniziano a stare male. Sono dei pazienti che anche loro iniziano a soffrire e quindi stiamo cercando delle soluzioni per questi pazienti perché ritengo che alcuni cittadini che non possono lavorare abbiano una sofferenza pari quasi all'infezione da Covid. Un tampone destinato a rivoluzionare il percorso di tracciamento e di screening. Costo di produzione unitario circa 2 o 3 euro. Un test fai da te, ancora un ulteriore contributo alla diagnostica e in questo caso se qualora fosse validato e confermata questa validazione il cittadino potrebbe farsi il test da solo in casa. Ma è vero tema che dovrà essere affrontato nel momento in cui ci sarà l'autorizzazione a livello nazionale e capire se sarà una vendita libera, diretta, come immagino accadrà in giro per il mondo oppure se si obbligherà il cittadino a rendere tracciabile il test che farà. Oltre i 5.000 sperimentazioni che state avviando proprio nella sanità pubblica avete in programma altre sperimentazioni prima magari dell'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità? Si sta lavorando su molti fronti quindi si va avanti col fronte delle sperimentazioni e consideriamo che questo periodo è favorevole per la presenza di pazienti per cui i pazienti sono fondamentali per sperimentare questi test. Il test di salivari che punto è? I test di salivari sono assolutamente a buon punto l'Università di Padova sta andando avanti abbiamo già gli strumenti validati per il test salivare quindi quello direi che è un obiettivo raggiunto.